Quasi vent'anni dall'approvazione della legge per l'istituzione del giorno del ricordo, Fondazione Ferrovie dello Stato ha inaugurato un treno che nel suo viaggio ripercorre l'esodo Giuliano Dalmata, rinnovando la memoria di tutte le vittime delle foibe e la diaspora di uomini e donne della Venezia Giulia, Istria e della Dalmazia. Il treno del ricordo, questo che state vedendo, è partito sabato scorso e questa mattina sarà a Torino. Allora, vediamo se c'è il collegamento. Andiamo a... no, non c'è, mi dicono che non c'è il collegamento. Allora, diciamo che subito ci sarà una mostra, come potete vedere, all'interno del treno. C'è la possibilità quindi di poter ripercorrere la storia, di imparare. Quindi il consiglio è quello di andar lì e di portare le nuove generazioni, perché della storia dobbiamo solamente che imparare. Ricordiamo poi che il treno del ricordo, se riusciamo a sapere anche quali saranno le tappe che toccherà, ve lo diremo dopo, perché purtroppo il collegamento con il direttore Cantamessa non lo abbiamo. Proveremo subito dopo questo spazio. Allora, per il momento ci fermiamo, diamo la linea al Tg Parlamento, poi Tg 1 Liss e dopo ritorneremo e vi diremo quali saranno le tappe del treno del ricordo. A tra poco. Eccoci qui, tornati ad 1 mattina. Allora, stavamo parlando di questa bellissima iniziativa del treno del ricordo. È partito, ricordiamo, lo sabato scorso e questa mattina sarà a Torino. E allora, andiamo subito alla stazione di Lubiana, dove vedo collegato con noi Luigi Cantamessa. Buongiorno, direttore generale di Fondazione Ferrovie dello Stato. Buongiorno. Allora, le chiedo subito... Buongiorno a voi, studio. Prima stavamo vedendo anche, direttore, le immagini all'interno del treno. Quindi che cosa riusciremo a vedere nella mostra? Ma prima di tutto è un mix tra passato e futuro, perché parte del treno è allestita in maniera multimediale, monitor, audio e una parte invece con tutte le masserizie e gli oggetti che gli esuli di Istria, Pola e Dalmazia portavano con sé quando sbarcarono al porto di Ancona. Quindi è un mix tra tecnologia e storia autentica. Rivolto anche alla fascia dei più giovani? Ma assolutamente sì, proprio perché con musiche, audio e la suggestione tipica di questi carrozze del 1920 e 30, anche i più piccoli possono capire che cosa è stato il treno all'interno della storia d'Italia e di questa grande tragedia degli esuli di Dalmazia. Vogliamo ricordare allora le tappe prima di salutarla, direttore? Ma certamente oggi, come avete detto, è a Torino. Domani scenderà dal Valico dei Giovi a Genova. Poi ad Ancona, la tappa più importante, perché lì arrivò il primo piroscafo, appunto, dalle rive della Slovenia, portando i primi esuli. Si scenderà a Bologna, Parma, La Spezia, Firenze, Roma Ostiense, tappa molto importante, Napoli per concludere a Taranto, in uno dei porti più importanti d'Italia. Grazie, grazie per essere stato con noi, direttore generale Fondazione Ferrovie dello Stato, Luigi Cantamessa, quindi approfittate e andate anche sul sito per andare a vedere le varie tappe. Grazie. Grazie, grazie mille. Grazie a voi. E adesso invece torniamo a parlare d'amore. Ma guarda, il treno è perfetto, perché proprio sul treno, soprattutto i treni di una volta, come questi, che sono, ricordiamolo, quando vanno piano, lenti, hanno le vetrate, la possibilità di ammirare fuori. Tu ti metti lì a scrivere. E di innamorarti. Vedi? E noi abbiamo adesso un maestro, il professor.